giallo di concordia siamo allo stallo bene ragazzi ciao a tutti e bentornati sul canale di saturn 5 per un nuovo vlog riguardante il giallo di concordia come dicevamo siamo arrivati secondo me a una situazione di stallo stallo perché non sappiamo assolutamente più cosa pensare a seguito delle ultime informazioni che ci sono arrivate le ultime notizie c'è da dire anche che comunque le notizie in parte sono frammentarie imparziali talvolta anche contraddittorie purtroppo a oggi possiamo dire che è vero tutto è il contrario di tutto siamo partiti all'inizio della vicenda a ipotizzare subito un omicidio di tipo passionale da parte del galù poi la vicenda si è evoluta è subentrato il discorso droga abbiamo ipotizzato un omicidio legato in qualche modo alla droga più premeditato e meno d'impeto qualcuno ha anche immaginato un omicidio su commissione poi è emerso tutto il discorso riguardante il terzo uomo per cui si sono fatte ancora nuovissime ipotesi anche riguardante il terzo uomo e adesso arriviamo di nuovo alla prima ipotesi cioè quella originaria cioè quella di partenza e cioè un omicidio derivato da ragioni passionali da parte del galù che come pare sia maggiormente convinta la procura ma anche il tribunale di modena abbia incontrato alice sarà che era bevuto fumato quel che volete insomma comunque pare che in qualche modo abbia approcciato con alice magari il passaggio era una scusa voleva provarci in qualche modo con lei poi da lì è nato un diverbio alice sicuramente avrà rifiutato poi una collutazione in qualche modo e poi ha avuto origine l'omicidio ragazzi allora io credo che veramente adesso siamo arrivati al punto di dover mettere un po' di puntini sulle i oltretutto non riesco a capire come sia possibile le ultime notizie le ultime dichiarazioni che ha fatto l'avvocato zaccaria cioè l'avvocato della famiglia di alice ha detto non esistono prove medico legali che alice abbia assunto cocaina ragazzi quando un po' di tempo fa sarà più o meno un mesetto fa emerge che un esame tossicologico ha rilevato tracce di cocaina allora io mi chiedo anche lì secondo me un po' tutte le indagini vengono condotte ma neanche tanto le indagini in sé perché le indagini in sé magari sono condotte anche con professionalità io non lo metto in dubbio ma quello che è tutt'altro che professionale è le notizie e il modus operandi di coloro che trasmettono le notizie al grande pubblico va bene che si vuole operare procedere con riservo e non si vuole rendere di pubblico dominio troppe informazioni proprio per evitare depistaggi eccetera eccetera va bene però voglio dire quando si parla di un esame tossicologico ragazzi l'esame tossicologico non è un'opinione un qualcosa che forse no se un esame tossicologico rileva presenza di tracce di cocaina dentro un reperto un resto della povera alice che è stato analizzato vuol dire che quello rileva vuol dire che la cocaina c'è non esiste che adesso l'avvocato zaccaria tira fuori il discorso non abbiamo le prove medico legali che Alice abbia assunto cocaina non esiste quel discorso lì perché l'esame dice le cose così come sono quello che non si può determinare con precisione è il giorno dell'assunzione si può forse orientativamente individuare il periodo ma a grandi linee di sicuro non possiamo stabilire se la sera del 17 novembre o la notte fra giovedì 17 e 18 Alice possa aver assunto della cocaina ma se l'esame da presenza di cocaina vuol dire che cocaina Alice l'ha assunta e non ci sono cazzi altrimenti è una bufala il discorso dell'esame istologico opzione B ma se emerge questa notizia voglio dire non credo che perché vedete mi viene anche un po da dubitare circa l'attendibilità di certe notizie perché secondo me si sta facendo tutto un gran casino ora abbiamo il pubblico ragazzi che come dicevamo già nei precedenti video è spaccato in due ci sono tantissimi io vedo anche attraverso i commenti che sono assolutamente d'accordo con la procura e con i giudici che ritengono assolutamente il galù colpevole e unico responsabile dell'omicidio di Alice e altre che invece sono di opinione completamente contrarie a partire dall'avvocato Roberto Ghini che insiste sul fatto che si è scappato però è scappato otto giorni dopo uno che fugge fugge subito e poi la storia del fatto che postava appunto le foto di se stesso all'estero eccetera eccetera allora è vero però è anche vero che insomma il galù ha diverse volte tentato di sfuggire alla cattura poi è stato arrestato e portato giù a Modena io a questo punto la do un po' al 50-50 riguardo la colpevolezza della galù forse direi un 60-40 cioè sono propenso al 60 per la colpevolezza al 40 per la sua innocenza stando le cose come le sappiamo oggi in ogni caso sono assolutamente dell'idea ragazzi che il terzo uomo mi sembra di aver capito dalle ultime notizie anche anche a quarto grado di venerdì sera è emerso che sto terzo uomo sia almeno questa è stata la mia sensazione che venga preso un pochettino sotto gamba nel senso che boh sì insomma pare che non venga nemmeno iscritto nel registro degli indagati cosa che secondo me è un assurdo perché ci sono talmente tanti sospetti e indizi che portano proprio alla sua colpevolezza o quantomeno ad un suo certo coinvolgimento nell'omicidio perché voi capite bene che allora si è già incontrato diverse volte con Alice precedentemente poi sono emerse le lettere di amore folle matto disperatissimo da parte sua nei confronti di Alice poi è emerso che c'era una vera e propria relazione clandestina il giorno prima si sono trovati un'ora prima di andare al lavoro niente di più facile che si siano incontrati o quantomeno che avessero progettato di incontrarsi anche la mattina presto del 18 quindi perché escludere categoricamente o comunque non dare il giusto peso a questo terzo uomo questo terzo uomo va indagato e come va iscritto nel registro degli indagati ragazzi perché non si può trascurare così la cosa mi ha stupito tantissimo l'intervento di Matteo Marzoli che ha a quarto grado dichiarato in televisione aveva una giornalista a fianco che gli poneva delle domande e ha reagito in un modo abbastanza brusco anche al momento in cui gli si chiedeva la sua opinione circa il terzo uomo lui ha detto ma no ma ma stiamo scherzando ma pover uomo ma questo se poi dovesse arrivare al lavoro con un'accusa del genere questo c'è la vita rovinata i colleghi della VAM addirittura lo lincerebbero allora ragazzi io veramente cioè Matteo Marzoli è un personaggio eccezionale è una bravissima persona tra l'altro è intervenuto per chi non lo sapesse anche più di una volta con i commenti proprio ai nostri video la cosa mi ha fatto naturalmente estremamente piacere ha dimostrato assolutamente di collaborare e ha dimostrato massimo impegno proprio nelle ricerche nelle indagini ha collaborato tantissimo ha fatto veramente tanto per cercare di quantomeno trovare una strada per risolvere questo giallo però ecco diciamo che questa sua esternazione e questa sua presa di posizione così drastica così assoluta nei confronti della innocenza totale assoluta del terzo uomo mi sembra un pochettino poco prudente perché per carità magari il terzo uomo non c'entra nulla ma non si può escludere a priori usando poi oltretutto una dialettica così forte ed incisiva nei confronti di un'ipotetica colpevolezza di questo terzo uomo tanto è vero che addirittura Gianluigi a seguito delle sue dichiarazioni è rimasto un po' così e anche la giornalista non sapeva più che faccia fare dicendo ha poi risposto ma guarda siamo in un paese civile eccetera eccetera per cui Matteo io ci andrei un attimino più coi piedi di piombo poi per carità io sono d'accordo con la procura anche Matteo ha detto se ben tre giudici ritengono colpevole il Galul e hanno confermato il suo fermo cautelare in cacera saranno mica tre coglioni ma per carità io sono pienamente d'accordo anch'io con la procura sicuramente e con anche i giudici di Modena ragazzi allora c'è un cazzo da fare gli indizi pesanti sul Galul ci sono ci sono sempre stati fin dall'inizio continuano ad esserci oltretutto il Galul fornisce versioni prima si avvasse la facoltà di non rispondere non parlava eccetera eccetera adesso ha detto qualcosa poche informazioni confuse contraddittorie non si capisce assolutamente che cosa abbia fatto dalle 3.40 ora in cui lui stesso dichiara di essere salito sulla macchina di Alice per il famoso passaggio fino alle 5.15 perché non lo dice assolutamente prima salta fuori una versione poi ne salta fuori un'altra attraverso il famoso cognato per cui sarebbe da incoscienti lasciare libero il Galul come dicono giustamente i giudici del tribunale significherebbe avere un elevatissimo rischio di fuga di nuovo come ha già fatto tra l'altro una volta quindi sono pienamente d'accordo che il Galul per il momento fin quando non ci sarà una svolta va tenuto in carcere assolutamente perché è stato ed è continuo ad essere il primo sospettato su questo siamo d'accordo tutti è straconvinto anche Matteo ma credo che siano ben pochi oddio qualche opinionista ragazzi io ho letto nei commenti anche è assolutamente più innocentista nei confronti del Galul ma ci sta in pieno ognuno ha le sue opinioni lo scopo di questi video è anche quello di confrontarsi attraverso i commenti è inevitabile che ci siano in questi casi opinioni discordanti io andrei un attimino con i piedi di piombo nel senso che se da un lato come dicevo prima la procura e i giudici e le autorità ritengono il Galul o comunque individuano il Galul come il maggior probabile autore dell'omicidio di Alice bisogna comunque anche attenzionare adeguatamente questo terzo uomo cosa che mi è sembrato di capire che non si sta facendo perché dice una cosa intanto dice il falso perché voglio dire se fosse totalmente strano se fosse totalmente sincero mi chiedo io ma perché perché andare a dire a dichiarare che lui aveva un rapporto soltanto di lavoro di amicizia si sono visti qualche volta con Alice per qualche caffè qualche spritz quando invece saltano fuori queste lettere di amore folle fra i due e poi la moglie perché lo difende così a spadatratta oltretutto dando versioni discordanti su che cosa avevano fatto quel benedetto giorno vedete che c'è qualcosa che puzza di bruciato si incontravano la mattina presto il 17 questo terzo uomo è stato già è passato davanti a quel bar di San Prospero dove è stata appunto Alice che si è incontrata nel pomeriggio appunto con quell'altro Mohamed quell'altro collega di lavoro lui è arrivato perché cercava era sulle tracce di Alice poi combinazione è passato davanti al bar dopo che però Alice era già andata via quindi insomma questo terzo uomo ha interagito con Alice ok e non si può dire che è totalmente estraneo alla vicenda bisogna assolutamente approfondire e scriverlo a mio avviso nel registro degli indagati riguardo a Nicolas ragazzi io come la maggior parte delle persone insomma degli opinionisti eccetera hanno sempre abbiamo sempre ritenuto Nicolas assolutamente estraneo pur essendo iscritto nel registro degli indagati ma l'abbiamo sempre ritenuto estraneo diciamo un pochettino alla vicenda qualcuno anche più di uno nell'ultimo video mi ha scritto nei commenti guardate bene che non diamo per scontato nulla perché Nicolas oddio proprio metterlo da parte al cento per cento è un pochettino imprudente a questo punto riflettendo facendo ancora due ragionamenti su questi commenti che leggevo minuti in mente anche a me che sarebbe effettivamente il caso di non escluderlo proprio a priori quantomeno per il fatto che Nicolas un movente ce l'aveva vedete gli altri moventi soprattutto il Galul io il movente del Galul lo vedo veramente difficile o quasi inesistente il terzo uomo avere un movente allora un innamorato che sì allora l'unica spiegazione mi sono dato allora il terzo uomo interviene quella notte scopre vede Alice in compagnia di questo Galul avrà avrà immaginato potrebbe usiamo il condizionale attenzione mi raccomando sto sempre facendo ipotesi potrebbe aver immaginato che insomma ci fosse chissà che cosa fra Alice e il Galul potrebbe avere avuto un raptus di gelosia al punto da scatenare un omicidio però attenzione anche questa è un'ipotesi abbastanza macchinosa la moglie come qualcuno mi ha detto nei precedenti commenti dei video ancora antecedenti un movente potrebbe averlo e come anche se dice tutt'altro ma potrebbe tranquillamente averlo scoperto poi adesso abbiamo pure le lettere quindi c'è un'evidenza sappiamo anche che è super mega gelosa del marito quindi la moglie potrebbe avere un movente per l'omicidio di Alice nicolas tornando un attimo nicolas anche gli potrebbe avere avrebbe potuto avere un movente perché sicuramente tutta la situazione di Alice magari non sapeva tutto fino in fondo quello che faceva quello che non faceva perché Alice cercava anche insomma non è che gli diceva proprio tutto tanto è vero che gli ha contato la balla quella famoso giovedì 17 dicendo che andava si trovava a Modena con una sua amica quando invece poi si è trovata col cucui più tutto quello che sappiamo poi però nicolas chiaramente non è scemo insomma le uscite serali pare che negli ultimi tempi fossero abbastanza frequenti le uscite di Alice e quindi e quindi e quindi potrebbe aver avuto un movente sono d'accordo con chi mi ha scritto occhio a non mettere troppo da parte a priori nicolas penso tuttavia anche che in ogni caso dopo ben quattro mesi considerato soprattutto che nicolas è presente nel registro degli indagati figuriamoci un po' se non hanno fatto delle indagini su di lui avranno sicuramente cercato di osservare le videocamere di sorveglianza per vedere se qualcuna ha filmato una macchina che potrebbe essere compatibile quantomeno con la sua avranno sentito delle testimonianze poi ricordiamoci che non tutto quello che passo dopo passo fanno gli investigatori viene reso di pubblico dominio io penso che dopo quattro mesi se di nicolas tutto sommato non si è praticamente quasi mai parlato neanche a livello di sospetti credo che abbiano già appurato con prove certe che nicolas non c'entra nulla attenzione presumo poi non lo so magari poi no magari in realtà hanno l'hanno semplicemente messo da parte così per quanto riguarda la posizione del cucui ragazzi io ribadisco quello che ho già detto anche in precedenti video sono fermamente convinto del fatto che il cucui non c'entra nulla qualcuno potrebbe dire già ma allora come mai non parla non parla per il semplice fatto che il cucui in qualche modo era invischiato con un traffico di droga tanto è vero che è stata trovata della droga nella sua macchina quindi forse non era spacciatore non spacciava forse era solo consumatore probabilmente spacciava non lo so ma il fatto che lui non parli il fatto che lui parli soltanto dalle 3 e 30 in avanti di quella notte cioè dicendo sostanzialmente nulla che ha salutato alice se ne è andato a casa eccetera eccetera e credo che anche per quello che riguarda lui insomma dovremmo avere già una buona probabilità di certezza del fatto che quello che dice corrisponde al vero anche perché sennò sarebbero quanto meno emerse dei sospetti su un'ipotetica sua ripartenza per concordia dicevo il fatto che non parli di tutto quello che è successo prima quindi nelle sette ore di aperitivo con alice e semplicemente perché non vuole che si scoprano i suoi presunti diciamo quanto meno invischiamenti con il mondo della droga lui al terrore di quello e non parla per quella ragione questa è l'idea che mi ho fatto io ma non credo assolutamente che c'entri assolutamente nulla con l'omicidio quindi qual è la situazione adesso ragazzi quale strada bisogna intraprendere per proseguire le indagini secondo me su due fronti allora innanzitutto lo dico ancora una volta bisogna assolutamente approfondire la situazione del terzo uomo visto che ci sono tanti sospetti e c'è tanto marcio secondo me ed incongruenze da quello che è emerso e dalla dichiarazione dell'uomo stesso e della moglie non sarebbe male iscrivere lui nel registro degli indagati e indagare su di lui sul terzo uomo e anche sulla moglie e cercare di capire veramente fino a che punto possa aver interagito con con alice visto che c'era questo rapporto e questo ormai è emerso quindi sono date di fatto e poi c'è tutto il discorso della galuleria ragazzi allora il galul andrebbe preso con decisione e determinazione almeno questo è quello che farai io metterlo sotto torchio metterlo spalle al muro e dirgli ragazzo tu adesso racconti che cazzo hai fatto dalle 3 40 del 18 11 20 22 fino alle 5 15 perché non ha ancora sostanzialmente detto un cristo riguardo a quello che ha fatto ha dato poche informazioni vaghe e confuse e contraddittorie e bisognerebbe secondo me usare una tattica del tipo tu parli perché attenzione se non parli la tua posizione è decisamente più grave cioè mentre se non parli anche se non è vero meglio direi mentre se non parli la tua permanenza in carcere probabilmente a vita è quasi certa se parli puoi avere una possibilità quantomeno una probabilità di uscire dal carcere in tempi anche abbastanza brevi anche se non è così anche se non abbiamo elementi per dire che così però inculcargli questo concetto nella testa allo scopo di farlo parlare poi ragazzi quello che dice che poi corrisponde al vero è ancora tutto un altro paio di maniche ovviamente però almeno sentire una versione sua sentire una versione quantomeno definitiva non sale sulla macchina di alicia le 3.40 poi le 3.41 viene disattivata la geolocalizzazione le 3.42 scende e poi un'altra volta invece pare che il tempo di permanenza con alicia sia molto più lungo allora una versione che sia definitiva verificare questa versione con tutti gli elementi che abbiamo videocamere telecamere di sorveglianza comprese se combaccia tutto con quello che sappiamo con gli elementi a nostra conoscenza e cercare di proseguire chiaramente le indagini agendo su questi due fronti come ho appena detto bene ragazzi come di consueto abbiamo terminato anche questo vlog questa specie di chiacchierata così di riflessione sul punto della situazione a oggi vi ricordo che naturalmente i commenti sono sempre graditissimi appena ci saranno novità me lo auguro ci aggiorneremo non lo so non è detto che ci sia una novità tra breve certo potrebbe sempre emergere una nuova testimonianza domani mattina possono sempre emergere nuove prove me lo auguro perché l'ultima cosa che vogliamo è che questo caso rimanga irrisolto perché sarebbe veramente da mettersi le mani nei capelli come di consueto ragazzi al prossimo aggiornamento ciao